Il santo di oggi Facciamo gli auguri a Santa Martina Tutte le persone che si chiamano Martina È stata una martire Il sole è sorto alle 7.27 Tramonterà le 17.15 Il tempo weekend della Candelora Spesso nuvoloso e con freddo ancora lontano dalla penisola Guardate questo colore arancione Che invade tutta l'Europa Quasi tutta l'Europa Insomma continua ad essere caldo Nonostante siamo appunto alla fine del mese Avremo oggi secondo i dati Della protezione civile delle Marche Un cielo parzialmente nuvoloso Con temperature minime in diminuzione Ma le massime sono stazionarie E quando parliamo di massime oggi Per esempio ad Ascoli Piceno Toccheremo i 15 gradi Quindi siamo intorno sopra i 10, 11, 12 gradi Un po' su tutta la costa adriatica Per la giornata di domani Venerdì 31 gennaio Ancora cielo sereno e poco nuvoloso Con temperature in aumento In particolare nei valori massimi Per quanto riguarda il primo di febbraio Il mese si aprirà con temperature ancora in aumento Eventi che saranno moderati da sud Con raffiche fino a vento forte Poi questo consolidamento dell'alta pressione Quel colore arancione che vedevamo poco fa Continua a mantenere condizioni stabili Con venti di garbino Ancora per la giornata di domenica E quindi ancora vento caldo E l'inizio della prossima settimana Dunque questa è la prima parte Della nostra rassegna stampa Adesso entriamo nel vivo E quindi andiamo a leggere i titoli Delle notizie più importanti Nei quotidiani Carlino e Corriere Adriatico In particolare le edizioni di Pesaro e Urbino Anche se ormai siamo abituati E vi abbiamo piano piano abituati Anche a dare un'occhiata Un po' a quello che succede nel resto della regione E la pagina del Corriere Adriatico di oggi Apre l'edizione di Pesaro Con gli appalti e l'ERAP pilotati Una inchiesta, un'indagine Della Guardia di Finanza di Pesaro Che ha portato alla denuncia Di otto persone Tra cui anche dirigenti Che adesso sono finiti indagati Tre pubblici ufficiali della sede pesarese A centropagine invece la guinza La galleria che è chiusa da decenni C'è stata un'altra bocciatura Pareva che si potesse raggiungere un accordo Almeno per il senso unico alternato In realtà anche questo è stato bocciato È pericoloso Sarà braccio di ferro dunque Tra Marche ed Umbria Domani il Consiglio Superiore Visionerà il progetto Sono stati chiesti 10 milioni Per la galleria BIS Poi verso le elezioni regionali Nelle Marche Il PD rinvia la direzione Zingaretti da Roma Manda un BIG Dunque oggi ci deve essere Un incontro La direzione regionale Ma è saltata Forse ci sarà lunedì Qualcuno dice È una prassi consolidata L'arrivo di un componente Della segreteria nazionale Invece qualcun altro Dice malignamente No Vuol dire che deciderà Roma Martedì intanto La federazione di Ancona Ha chiesto in segreteria Un rinnovamento sul candidato Insomma anche nel PD C'è chi non vuole Il BIS di Luca Ceriscioli Intanto i 5 Stelle Confermano il no All'alleanza Con il Partito Democratico Sempre dalla prima Torna a casa Scopre i ladri A Pesaro La banda in fuga 100 km all'ora Allarmi a Santa Veneranda In tarda mattinata Colpi messi a segni Anche a danni Di esercizi Nel centro storico Il Carlino di Pesaro Lo avete ucciso Come un cane Sono le parole Di un nipote Di Sesto Grilli L'uomo L'anziano Di San Lorenzo In campo Ucciso Da una banda Di rapinatori La rabbia del fratello E di altri parenti In corte d'assise Davanti alle fotografie Shock Del cadavere A centro pagina Erap i lavori Ai soliti amici Appalti pilotati Denunciati I funzionari Dell'ente E anche Alcuni imprenditori La nuova scuola elementare Di Tavuglia Invece sarà in legno E antisismica Già pronta Nel 2022 Mentre Massimo Seri Da Fano Spinge per L'eco domenica Anche il 2 di febbraio Quindi anche domenica prossima L'assessore invece Mascarin frena La giunta In sostanza Non sa che cosa fare Valentino Rossi Al giro di Boa La Yamaha Lo sceglie Quartararo Il futuro di Rossi Dunque pieno di incognite Mentre Carloni Intervistato dal resto Il Carlino Di questa mattina All'attacco Va di Ceriscioli Dice da lui Nessuna soluzione Alla crisi Al foro Boario Di Fano Paura Al parcheggio Rapinata Mentre sale In macchina Mentre C'è la storia Che vi racconteremo Tra poco Attraverso il Carlino Di un uomo 45enne Che Con problemi Di tossicodipendenza Ha cercato In tutti i modi Di farsi arrestare E di finire In carcere Perché dice Io in carcere Mangio e dormo E non ho problemi Raid nel frutteto Tagliate 300 piante Siamo sul Carlino Di Ancone Inquietante scoperta In un'azienda Di visciole A Serra dei Conti Tutto distrutto Nessuna minaccia Però dicono Quelli della famiglia Cardinale Che ha questo terreno E produce Vino di visciole Nessuna minaccia Oppure richiesta Di pizzo A centropagina Un cinese Con la mascherina Per parlare Di psicosi da virus Ci sono Parla Un imprenditore Anche un infettologo Infettivologo Scusate Troppo allarmismo Dicono Però insomma Là si continua A morire Poi qualcuno dice È vero Sono 7 miliardi Cento persone Che muoiono Con influenza Non si può parlare Di catastrofe Come spesso Si sente urlare Sui media Ma poi si parla Anche di indagini Chiuse Per questa ragazzina Di 16 anni Che vedete In questa fotografia Che è stata uccisa Nel 2010 Sempre nelle marche La procura Aveva riaperto Le indagini Perché nel 2018 Casualmente Erano state trovate Delle ossa Durante degli scavi Vicino all'hotel Ausa Porto Recanati E attraverso Il DNA Recuperato Da una mascella Si è scoperto Che il corpo Appunto Era di questa Ragazzina di 16 anni Kamei Che è stata uccisa Secondo le indagini Dal finanzato Finanzato però Adesso è in Bangladesh E ormai Sì L'hanno rintracciato Ma poi è risparito Di nuovo Insomma Dieci anni Sono passati Probabilmente Passerà la sua vita Là E Verrà dimenticato Mentre il Carlino Di Macerata Apre con La foto di Pierino Che va in pensione Il decano Dei barman Dice Vi racconto 49 anni Passati dietro Al bancone Del mio bar Mentre a cingoli Mamme Arrabbiatissime Perché i figli Hanno trovato I loro bambini Dei vermi Nella minestra Nella scuola elementare Adesso scattano Ovviamente Le verifiche Da parte Dei carabinieri forestali Cinque maceratesi Nell'inferno cinese Giriamo solo Con la mascherina Le pagine di Pesaro Interne Del resto del Carlino Per parlare Dell'operazione Operazione Lavoro in corso Così è stata denominata Scattata ieri mattina All'alba Con perquisizioni Nella sede Dell'ex Case Popolari Di via Bramante Indagati tre funzionari Poi professionisti E imprenditori Beneficio in cambio Di appalti pilotati La guardia di finanza Era stata avvisata Da un funzionario Che si è accorto Del metodo Di alcuni colleghi L'orrore Rivocato davanti ai giudici Così è stato ammazzato Sesto Grilli Picchiato Se viziato Con gli attizzatoi Del camino E soffocato Con lo scocci In aula depongono I carabinieri Uno degli imputati Prende appunti Le foto agghiaccianti Viste anche dal fratello Della vittima Nella cera di sicurezza I quattro imputati Hanno ascoltato Le deposizioni Mentre il carlino Titola così Grilli Martoriato E legato alla sedia Photo shock In assise Il processo Per l'omicidio Del pensionato Di San Lorenzo E Lanza Uno dei quattro imputati Segue l'udienza Prendendo appunti E per Giuseppe Come per gli altri Giuseppe Il fratello Di Sesto È stata la prima volta In cui ha visto il corpo Senza vita Appunto del fratello Non avevo Dice lui Voluto vederlo Subito dopo l'omicidio E quelle foto Sono state un colpo Al cuore Ha detto Giuseppe Lo hanno Conciato peggio Di un cane Gli ha fatto eco Uno dei nipoti Che bestie Ha continuato Giuseppe Come si fa Non ho parole E dire Che uno di loro Non mi ricordo chi Era stato anche accolto In casa Da mio fratello Referendum Il comitato rilancia Meglio Un digestore aerobico Titola il Corriere di Fano Del Vecchio Propone l'esempio di San Marino Progetto ASET Sovradimensionato Mentre a Terre Roveresche Ora si contende L'impianto Un digestore invece Anaerobico Il 22 gennaio scorso È stato presentato Alla provincia Da parte di una società La società Ferogna Di Porto Sant'Elpidio Per realizzare appunto Nel comune di Terre Roveresche Nell'ex discarica di barche Un impianto Da 40 mila tonnellate Sotto invece Feeling Tra Pentastellati E Lega Siamo sempre a Fano Hanno votato insieme Dalla mozione Tolta la priorità Di Monteschiantello Ma il centro-sinistra Dice no Slitta l'atto Della maggioranza Che affida l'incarico Per gli studi Di fattibilità Su tre siti Eccolo qua Il digestore Di Terre Roveresche Il privato Non vuole la guerra La Ferogna SRL È pronta A collaborare Con gli enti Investiamo 20 milioni Ma siamo aperti A qualunque tipo Di collaborazione L'iniziativa però Sembra cogliere Di sorpresa Gli amministratori Fanesi Ad eccezione Del consigliere provinciale Del PD Enrico Nicolelli Che ha ammesso Era una voce Che circolava Sì da qualche giorno Noi Non siamo mai Stati contattati Invece chiarisce L'amministratore Delegato Di Marche Multiservizi Mauro Tibiroli Che aggiunge In una provincia Che produce 40-50 mila Tonnellate di organico Non possono coesistere Due impianti Ripeto Questo è il rendering Che con tanto Di documenti Allegati Rendering Che è stato presentato In provincia Di peso L'Urbino Per l'autorizzazione Ma si parla ancora Oggi E soprattutto Sul Carlino Di Fano Della prossima Domenica Senz'auto C'è chi vorrebbe Mantenere Tutto così com'è Come sindaco Massimo Seri E quindi Fare Questa seconda Domenica ecologica Anche se il titolo Qui dice Non sa che fare Perché non sa che fare Non sa che più che altro Non sa che decisione prendere Nel senso che Mascarin Vorrebbe L'assessore Vorrebbe Ritornare un po' indietro Qualcuno Sta facendo pressione Perché si rinuncia A questa seconda domenica Visto L'esperimento Di domenica scorsa Insomma Fatto sta Che in giunta Ci sono opinioni Contrastanti Il sindaco Punterebbe ad un bis Mentre come detto Mascarin Invece Sarebbe Per il Per il no Intanto nella fotografia Renzo Ricci Che è pronto A presentare una denuncia Di fronte ad un nuovo Caos Domenicale Andiamo Ancora Sulle pagine Del resto del carino Per questa notizia Di cronaca Che arriva Sempre da Fano E che racconta Di un episodio Di una Rapina Nel parcheggio Dell'ex Foro Boario A pochi metri Dai negozi Dove un bandito Ha strappato la borsa Ad una donna Che E poi si è dileguato Nell'oscurità Vittima di questa aggressione Una fanese di 60 anni Che si trovava All'interno della sua vettura E stava per partire La malcapitata Intorno alle 17.30 Di qualche giorno fa Ha raggiunto la sua utilitaria In Non lo sa In un spiazzo Della sosta Insomma E si è seduta Al posto della guida Ha posato la borsa E poi Lì è arrivato Il bandito Che gli ha portato via Appunto La borsa La derubata È riuscita Ad acciuffare Per un attimo Il malvivente Che si è poi però Dileguato Il rapinatore Ha gettato via Per strada Il portafogli Dopo aver preso I soldi Carnevale È già ora Delle tribune In via In vendita I biglietti online Che lo ricordiamo Costano 10 euro Per chi li compra Su internet Mentre per chi Li vorrà acquistare Direttamente sul posto Al botteghino Dovrà sborsare 2 euro di più Perché lì sul posto Costeranno 12 euro Intanto Quanti sono i biglietti Lo ricordiamo Non è come un tempo Quando potevano entrare E uscire liberamente Tutti quelli che volevano Ci sono dei limiti Per l'accesso Sono 14.425 I ticket Messi in vendita Per ogni sfilata In programma Per il 9, 16 e 23 febbraio Quindi non potranno Accedere Le persone Che saranno In più Quindi per chi Viene da fuori Soprattutto fuori città Quindi dalla regione Forse è meglio Organizzarsi Come dire Con il biglietto Già in mano Magari comprandolo Su internet Domenica Antismog Da revocare La giunta Ora valuta Altre misure Oggi riunione Decisiva Negli ultimi due giorni Il vento ha ripulito Praticamente l'aria A tre punti Viabilità Rischio Il comune preveda Un senso unico C'è anche l'asilo Lega in allarme Per il quartiere Il cantiere Delle opere stradali Sotto Si montano i palchi Al via La vendita online Dei biglietti Chi acquista La tessera di socio Invece paga solo un euro Per l'ingresso Ecco i diversi punti Vendita E a proposito Di carnevale Anche qui c'è Se vogliamo Indirettamente La notizia Che riguarda Il carnevale Perché? Perché Fano e Gandia Sono comuni fratelli Dai tempi Dei famigerati Borgia L'8 febbraio La firma Nella sala verdi Del patto Già siglato Un anno fa In Spagna Quindi si parla Di questo gemellaggio Gemellaggio Che cade proprio Con il carnevale In programma Nelle prossime settimane Punto di contatto Anche le fallas Evento con grandi costruzioni Di cartapesta E di legno Una calma piatta Invece per il liceo Nolfi Sempre a Fano I docenti Dicono Smembrati per anni Vengono segnalati Ritardi e mancanza Di fondi E l'insufficienza Alla provincia E poi Ucchielli Ucchielli che scrive A Greta Thunberg Quindi non solo Il carnevale di Fano Con Maria Flora Giammarioli Che nei giorni scorsi Ha deciso di invitare Greta La vedete nella fotografia Accanto a Ucchielli Per dirle Di venire Al carnevale di Fano Perché il carnevale Quest'anno Sarà dedicato Al pianeta All'ecologia Ma È arrivato subito Dopo Ucchielli Che lo stesso Ha preso carta e penna E ha scritto A questa ragazzina Di 16 anni A questa attivista Per l'ambiente Che sta girando Il mondo E l'ha invitata A che cosa? Al primo festival Dell'amore Ovviamente Potete immaginarvi Quel sarcasmo Su internet L'opposizione Nel comune Di Vallefoglia Che insomma Dice Viene addette Di tutti i colori Non tanto A Greta Quanto Al sindaco Palmiro Ucchielli Così può vedere Il foglia Dicono Inquinato E i fumi Del drift show Che è un'iniziativa Che è in programma Proprio Nel comune Di Vallefoglia E che di ambientale Ha poco Perché insomma Ha a che fare Con i motori E quindi con L'inquinamento Però attenzione Perché Proprio questa mattina È uscita La notizia E qui siamo Su un sito internet Dell'ADN Kronos Che Greta Thunberg Diventerà un marchio Registrato Quindi l'attivista Svedese Ha annunciato L'intenzione Di registrare Il marchio Del suo nome E di quello Del Fridays for Future Il grande movimento Studentesco Che si batte Contro l'emergenza Climatica Proprio per evitare Che siano sfruttati A livello commerciale E Greta Sentite cosa dice Scrive Anzi su Instagram Il mio nome Ed il movimento Appunto Il Fridays for Future Vengono costantemente Utilizzati Per scopi commerciali Senza alcun consenso Accade Per esempio Nel commercio E alcune persone Fanno soldi A nome mio E del movimento E quindi Attenzione Lo diciamo Sia alla carnevalesca Sia a Palmiro Occhielli Attenzione perché Potrebbe arrivare Il conto La fattura Da pagare Anche solo per una letterina Inviata All'attivista Con il nome Greta Thunberg Andiamo sulle cose serie Guinza Bocciato il senso Unico alternato Ora sarà un braccio Di ferro con l'Umbria Domani il consiglio Superiore dei lavori pubblici Visionerà il progetto Biancani dice Sono stati chiesti 10 milioni Per la galleria Bis Palazzo Ducale Il super direttore Potrà essere di nuovo Straniero Decisione di Dario Franceschini Il ministro della cultura Interesserà 13 musei Si torna dunque All'autonomia Mentre Morani Al vaglio È l'apertura Della guinza Il sottosegretario Ha portato la pratica Al nuovo consiglio Superiore dei lavori pubblici Biancani assicura Noi non Molliamo E poi Sempre sul Resto del Carlino La pagina di Urbino Ogni mese Si perdono 20 urbinati L'analisi Dell'epidemiologo Marco Pompili L'anno Della svolta È stato il 2012 E per rimediare Bisogna favorire Chi fa i figli Dall'estero Non ci sono arrivi La fascia di abitanti Tra 25 e 44 anni È pari al 22% Pubblicato il bando Di concorso Per il direttore Di Palazzo Ducale Il testo è oggi Sull'Economist Le domande scadono Il 3 marzo Le valutazioni Saranno fatte Da esperti Di chiara fama E poi Dalla Valmetauro Musei aperti Visitatori incrementati Il nostro sistema Dice Amerigo Varotti Della Conf Commercio Ha prodotto risultati Il direttore Replica Il consigliere Chiara Billi E sui negozi Chiusi Dice Ci vediamo Sotto Le logge Guide turistiche Aggiornamento Con Luzzi È un appuntamento Riservato Ai professionisti Del settore Che si terrà Il 3 febbraio A Fossombrone Con il responsabile Museale L'intervista Del Carlino A Mirko Carloni Della Lega Il consigliere Regionale Attacca il governatore Ceriscioli Dice Parla del 2030 Quando in 5 anni Non ha risolto Un problema Bisogna creare Per Carloni Una grossa Banca locale E Sempre verso Le regionali Rinviata La direzione prevista Oggi ad Ancona Abbiamo visto Il PD pesarese Difende Ceriscioli Ma contesta Gostoli Che è il segretario Regionale del PD Ora In questa pagina Del resto del Carlino Edizioni di Pesero Dove si parla di fatti E di processi C'è una storia Che racconta Elisabetta Rossi Questa mattina Di un detenuto Che voleva fare Che vuole essere detenuto Un po' per scelta di vita E infatti Voleva andare A tutti i costi In carcere Perché dice lui Qui si mangia E ho un letto Dove appoggiarmi Per questo Un 45enne Originario del Sud Con problemi di tossicodipendenza Alle spalle Che tra l'altro È già noto Anche le forze dell'ordine A settembre Aveva pensato E scogitato un po' Un piano Che poi ha messo in atto Ha cominciato in maniera soft Possiamo dire Perché ha rubato un libro Della collana Harmony In un'edicola Poi è andato in questura Ad autodenunciarsi Però il poliziotto Ha detto Senta Non ho tempo da perdere Torni un'altra volta Per questo è troppo poco Per andare in carcere Un libro Troppo poco Poi A quel punto Ha detto Va bene Allora io vado E faccio una rapina E così ha fatto Il 26 di settembre È entrato nella filiale Ubi Banca Di Piazza Garibaldi È entrato lì È entrato Dentro Dentro la banca Si è rivolto Al cassiere E gli ha detto Dammi soldi E il cassiere L'ha guardato E ha detto Guarda che chiamo la polizia E lui ha detto Va bene Aspetto Ok Si è messo a sedere È arrivata la polizia E ovviamente La polizia L'ha portato in carcere Il giudice Francesco Messina L'ha condannato A due anni di reclusione 400 euro di multa Per furto Aggravato Tra l'altro Quest'uomo È stato anche sottoposto Ad esame psichiatrico Però è risultato Perfettamente capace Di intendere E di volere Però insomma È comunque stato giudicato Pericoloso Mentre Più sotto La notizia Di una Di una mamma Di una mamma Che Oltre alla sofferenza Morale Psicologica Ha anche dovuto Subire una sofferenza Fisica Perché In tutti questi anni Purtroppo Le ha prese Da suo figlio Un figlio Di 45 anni Lei ne ha 65 Sta a Marotta Siamo sempre In provincia Di Peso Rubino Per anni Questa donna Ha sopportato Le aggressioni Di questo figlio Di 45 anni Lei però Non ha mai voluto Denunciarlo Qui c'è tutto L'amore Comunque Di una madre Che è incredibile Il figlio L'ultima volta Però si è scagliato Con forza Contro la porta Rompendola Poi contro la madre Che è scivolata Dalle scale E si è fatta male A questo punto Lei ha chiamato Non ce l'ha fatta più Ha chiamato I carabinieri di Marotta I quali hanno arrestato L'uomo Per maltrattamenti Adesso il 45enne Ed è finito Davanti Davanti al Gip Per la convalida Dell'arresto E comunque È finito in carcere Mentre una fanese Una donna fanese Di 40 anni Che non si rassegnava Alla fine Di un rapporto Con il suo compagno Ha stalkerizzato Praticamente Il suo ex E quindi Con sms Telefonate Giorno e notte A questo punto L'uomo Ha deciso Di rivolgersi Al giudice E la donna Appunto Questa fanese Di 40 anni Mamma Anche di due figli Avuti con l'ex Finita A processo E la procura Di Pesaro Ha chiesto Appunto Di mandarla Di mandarla A processo Andiamo per un attimo Fuori dalla provincia Di Pesaro Urbino Ieri nel telegiornale Vi abbiamo fatto Vedere Questa fotografia Che Apparentemente Sembra un campo Semplicemente agricolo Così coltivato Arato In realtà Se vi guardate bene Ci sono Tanti Piccoli Alberelli Tagliati Questo è il risultato Di un inquietante Davvero Ride In un'azienda agricola Di Serra dei Conti Sono alberi Di Sono piante Di visciole Che sono state Tagliate Circa 300 Piante Di visciola Che sono state Tagliate Con un lavoro Certosino Che tra l'altro Ha richiesto anche ore e ore Di lavoro Con la motosega Questa cosa è successa Nella giornata Tra lunedì e martedì Si pensa Intorno Alle 17 Del pomeriggio Nessuno si è accorto Qualcuno dice Sì ho sentito Del rumore Delle motoseghe Ma in campagna È facile sentire Questi rumori E non darne peso Ovviamente Perché siamo Appunto in campagna Nessuno si è accorto Di nulla Adesso indagano I carabinieri forestali I dipendenti Perché sono due dipendenti Più fratello e sorella Che avevano deciso Di lasciare Il precedente lavoro Proprio per dedicarsi A questa azienda Familiare Iniziata dalla mamma E dal papà Famiglia cardinali E adesso Sono tutti a rischio Rischio lavoro Il perché Di questo atto Ecco qui I due imprenditori Delle cantine cardinali Insomma Il perché Di questo Di questo atto Così terribile Molti lo definiscono Mafioso Un gesto Mafioso Loro però Dicono Non abbiamo mai ricevuto Minacce Mai chiesto soldi Mai prestato soldi Insomma Non riusciamo a darci Spiegazione Avevamo piantato Tutto Dicono loro Queste piante Con nostro padre Che oggi non c'è più Forse Forse l'invidia Di qualcuno Infatti Sotto Vedete Nessuna minaccia O richiesta di pizzo E così È così assurdo L'imprenditore Luca Cardinali A stento Riesce A trattenere Le lacrime Vermi nella minestra Servita agli alunni Cingoli Sciocca La scuola dell'infanzia Le proteste Dei genitori Scattano le verifiche Dei carabinieri Confezioni di farro Adesso Nel mirino A Senigallia Cani antidroga Il campus Militare anche Nelle aule Controlli dei carabinieri Negli istituti superiori Trovati Ascis e marijuana L'operazione Si è allargata anche Alla Rocca Roveresca E ai Giardini Morandi Mentre Cocaina Nel Pollaio Per due volte Condannato a due anni E otto mesi Un pensionato Di Ostra Che è recidivo Mentre muore A 49 anni Gianluca Ventura Fratello di Cati È morto Dopo una lunga Malattia Valentino Rossi Un 2021 Pieno di incognite Il papà Ma così Avrà più scelta L'Aioh Sceglie Quartararo Al posto suo Graziano Il papà Dice normale Che attenda Quest'anno Per decidere Mentre oggi A Tavuglia C'è la presentazione Di Sky Team VR46 Per la Moto 2 E la Moto 3 È tutto Grazie Per averci seguito Buona giornata Ci vediamo Questa sera Alle 20 e 30 Con il telegiornale Occhio alla Notizia Arrivederci